In primo piano anche l'allarme criminalità, una situazione che ha spinto il prefetto di Napoli Palomba a convocare d'urgenza il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Maria Laura Massa. Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha convocato d'urgenza questo pomeriggio dal prefetto di Napoli Palomba. È la prima risposta alla pioggia di piombo che sta colpendo la città e il suo Interland in questi ultimi giorni. Un escalation criminale che impone l'obbligo di alzare la sticella dell'attenzione ai massimi livelli. Bisogna abbassare l'attenzione su questo argomento, lavorare da un lato sulla repressione e dall'altro sul rilancio del tessuto sociale dei quartieri più a rischio. I clan ridisegnano la loro geografia a colpi di agguati, omicidi, rappresaglie, una fibrillazione continua, tanti focolai con le nuove leve che cercano di imporsi là dove lo Stato ha decapitato via via i vertici. Si contano circa 120 organizzazioni criminali nel capoluogo campano. Ora alleati, ora rivali, ruotano come satelliti intorno ai due clan storicamente egemoni. Il cartello dell'alleanza di Secondigliano, in grado di estendere il suo controllo su quasi l'intera provincia, e il clan Mazzarella, radicato nel centro storico, che usa a soldare i ragazzini. È evidente che le operazioni alto impatto, volute dal Viminale per le città metropolitane, non bastano. Sono encomiabili controlli straordinari sul territorio, ma non rappresentano un approccio organico, come pure l'operazione Strade Sicure, prorogata anche per il 2023, con migliaia di soldati schierati nel contrasto alla criminalità. Sarebbe banale temere questa camorra soltanto per l'allarme sociale, perché non è più soltanto infiltrata nell'economia, ma ne è diventata parte e il confine tra affari legali e illegali è davvero molto labile.